Papa Francesco ha iniziato il suo quarto viaggio apostolico internazionale che lo ha portato in Albania atterrando poco prima delle nove l'aeroporto internazionale Madre Teresa della capitale Tirana. Nel percorso di 18 chilometri che lo ha portato al palazzo presidenziale per la cerimonia di benvenuto è stato salutato da migliaia di fedeli che lo tendevano in strada lungo il viale dei martiri decorato con gli standardi con le immagini delle 40 vittime della persecuzione del regime comunista del XX secolo. Accolto dal presidente della Repubblica Albanese Bujar Nishani il Papa ha rivolto le sue prime parole nel paese delle Aquile alle autorità civili e al corpo diplomatico. Nessuno pensi di poter farsi scudo di Dio mentre progetta e compie atti di violenza e di sopraffazione ha detto riferendosi ai gruppi estremisti come l'Isis in Iraq e Siria che travisano l'autentico senso religioso e distorgono e strumentalizzano le differenze tra le diverse confessioni. Nessuno prenda pretesto la religione ha aggiunto Papa Francesco per le proprie azioni contrarie alla dignità dell'uomo e ai suoi diritti fondamentali come quello alla vita e alla libertà religiosa. L'Albania di oggi 25 anni dopo la fine dell'inverno dell'isolamento e delle persecuzioni può diventare un esempio per tanti paesi per la sua pacifica convivenza e la collaborazione tra appartenenti a diverse religioni. Il clima di rispetto e fiducia reciproca tra cattolici ortodossi e musulmani è un bene prezioso per il paese e acquista un rilievo speciale in questo nostro tempo. La nuova sfida, ha concluso il Papa, è sforzarsi di mettere a disposizione di tutti i frutti della ripresa economica favorita dal nuovo pluralismo democratico.